Il team di aziende che rappresento, fra cui l'HBS, Malvex Pharma, Lecom Italia, RIM, hanno scelto di partecipare a questo tavolo per cercare di affrontare insieme i vertici apicali delle soluzioni per velocizzare il processo di informatizzazione della sanità. E ritengo che da questo tavolo sono uscite degli argomenti molto importanti che dovranno essere trasformati in azioni per poter dar luogo a questo processo, visto che il sistema Italia informatico in sanità è sicuramente indietro rispetto ai paesi con cui ci possiamo parametrare di circa 4-5 anni.